Amici e amici, eccoci qui per un nuovo video sul canale di Vince e oggi eccoci qui per inaugurare una nuova rubrica che è l'enciclopedia della mente quantica, per cui andiamo ad esaminare una serie di argomenti in ordine alfabetico in maniera tale che cerchiamo di andare a toccare più punti possibili e oggi iniziamo con la lettera A che sta per aggregato energetico. Che cos'è un aggregato energetico? Tendenzialmente quello che accade quando noi emettiamo pensieri ed emettiamo emozioni è che questi pensieri e queste emozioni in parte tornano indietro. Perché ho detto in parte? Perché una parte di questi vanno ad aggregarsi con energie simili, infatti si dice i libri vanno in libreria, le persone che la pensano al stesso modo tendono ad aggregarsi insieme, infatti questa è la legge dell'aggregazione. È interessante come legge perché questo ci dice che tutte le volte che io mi arrabbio parte di questa rabbia è vero che mi torna indietro sotto forma di eventi che poi mi faranno arrabbiare ancora di più, ma una piccola parte di questa rabbia va ad aggregarsi ad altre energie di rabbia. E tu devi immaginare come una specie di nuvola che pian piano diventa sempre più grosso, un cloud enorme 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 di, per esempio in questo caso, di rabbia che a un certo punto dovrà scaricare lì dove c'è il terreno più fertile. Quindi che cosa succede? Che ovviamente questa energia, per esempio di rabbia, non è che scaricherà lì dove c'è gente tranquilla e serena, ma ovviamente terreno più fertile vuol dire lì dove c'è una risonanza di massa con quel tipo di aggregato energetico. Infatti purtroppo piove sempre sul bagnato. Allora perché io ti parlo del potere dell'aggregato energetico? Perché dobbiamo essere responsabili delle emozioni, dei pensieri che noi emettiamo. È vero che questi pensieri e queste emozioni tornano indietro complicandoci la vita. Sarebbe meglio emettere pensieri di amore, provare amore, gioia, felicità, in maniera tale che questa roba ci torni indietro. Ma è anche vero che se emetto roba negativa creo quel famoso aggregato, e ce ne sono tanti diversi, che prima o poi vanno a scaricare lì dove purtroppo c'è una, potremmo dire come una specie di fuoriuscita, perché l'energia elettrica scorre attraverso un filo, un cavo elettrico, e il rompe lì dove c'è per esempio un piccolo taglio lungo il cavo. Quindi è molto importante divenire responsabili dei propri stati emotivi e dei propri pensieri. Questo vuol dire che noi siamo responsabili al 100% di quello che accade. Quindi tante volte il fatto che noi immaginiamo di pensare positivo, però alla fine poi facciamo pensieri negativi, di rabbia, di distruzione, non possiamo semplicemente fare un colpo di spugna dicendo no beh però forzandoci un sorriso io penso positivo, non serve. È importante cambiare dentro, perché questo vuol dire anche cambiare fuori le cose per gli altri, quindi non solo per noi. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto e che ti sia piaciuta questa idea per cui andremo avanti con altri termini in ordine alfabetico. Se ti è piaciuto mi raccomando like, pollicione in su, condividilo con i tuoi amici, mi raccomando se non ti sei ancora iscritto al canale iscriviti adesso e clicca sulla campanella che si sarai sempre avvisato su ogni nuovo video. Bene ti do un abbraccio, un bacio e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.